Ho seguito il pasto. Il pasto. Va bene anche un brodo. Sì, scusi, ma innanzitutto, guarda che pazzegno, a parte che non so chi è lei, ma che pasto? Un brodo, un tipastino, due aracostelle in pastella, del succo d'arrosto, qualcosa, qualcosa sdraiato su un letto di fiori alla Giulietta, tagliato. Sì, vabbè, poi è arrivato cannavacciuolo. Sì, è arrivato e si è anche fatto sentire. È arrivato cannavacciuolo. No, no, era un modo di dire, era un modo di dire. Sì, ma a me non andate da dormire. No, neanche quello. Ma scusi, io sono arrivato e ho visto tutta questa gente che dormiva, ho detto, questo sarà il direttore del Cotto Lengo. E può darsi, può darsi perché ha la faccia di uno che lavora il Cotto Lengo. Senta, faccia il piacere. Qua mi ha detto, vai a Blablablai che prendono tutti. Ho visto, lui ha detto, cazzo, c'ha ragione. Sì, ho capito, ma lei esattamente che cosa vuole per cortesia? Perché noi abbiamo uno spettacolo da mangiare avanti. Ciccetti, per cortesia è morto. Eh? Va bene? Allora, adesso io torno di là che c'è una riunione di Confindustria. Sì. E poi torno qua a dormire. Fai il bravo, ci ha parlato. Sì, va bene, grazie, grazie. Fai alla Mura, babbo. Grazie, va bene. Io vorrei poi anche...